Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Com'è andata la vostra settimana ragazzi? La mia alla grandissima, piena di appuntamenti, piena di impegni ma anche piena di soddisfazioni E oggi me la sono voluta prendere totalmente comoda Con le mie figlie mentre le accompagnavo a scuola abbiamo deciso addirittura di andare a piedi Non prendere neanche la bicicletta, le ho distribuite nelle scuole di quartiere Poi ho fatto colazione con la coautrice di questo podcast, Sara Veltri, che mi è venuta a trovare Anzi, se seguite Strategia Digitale su Telegram, telegram.me slash strategia digitale Avrete anche visto la foto di noi che facciamo colazione, l'ho beccata con il sorcio in bocca Con il cornetto al cioccolato in bocca Bene ragazzi, bando alle ciance Mentre stavo in questa rilassatezza ho ascoltato anche l'ultimo episodio della prima stagione di Equilibrio Digitale Un podcast creato dal mio amico Luca Conti Molto molto interessante che ci aiuta a riflettere e trovare un equilibrio sull'utilizzo del digitale In particolare, l'ultimo episodio era sul minimalismo E Luca ha citato un termine, il giomo Parleremo di questo giomo Vi racconterò anche un pochino come mi sono stupito io stesso di come tutti noi avremo bisogno Di utilizzare questo giomo come un superpotere che ci rende capaci di fare business Attraverso il digitale in maniera più defocalizzata O meglio, più focalizzata defocalizzandoci da quello che è l'impatto delle tecnologie sulla nostra attenzione Ma prima voglio ricordarvi che se avete un amico, un'amica, un collega, uno zio, un cuginetto che deve trovare lavoro e sta finendo l'università Ma gli volete fare un piacere? Ma lo volete mandare su strategiadigitale.info In modo che possa anche lui entrare o anche lei entrare tra gli ascoltatori del nostro podcast E portarsi a casa ogni giorno delle strategie utili per utilizzare il digitale in maniera consapevole E attraverso il digital poter fare business, marketing o editeria online Strategiadigitale.info Ci trovate tutto quello che riguarda il nostro podcast Compreso il link per mandare delle domande al sottoscritto Quindi andateci ma non aspettiamo altro tempo Bando a queste ciance E' arrivato il momento di scoprire che cos'è il giomo E come può aiutarci a fare business Allora ragazzi, qualche episodio fa abbiamo parlato del FOMO O della FOMO Che cos'è questa FOMO? Fear of missing out Paura di perdere qualcosa Questo fenomeno, questa fear of missing out Questa paura di perderci qualcosa E' particolarmente presente legata all'utilizzo dei media digitali Fondamentalmente è l'idea che devo guardare il cellulare ogni due secondi Perché ci potrebbe essere la notifica Ci potrebbe essere l'aggiornamento su Facebook Ci potrebbe essere il messaggio Mi ricordo ancora quando i primi tempi Quando c'erano i cellulari all'inizio Quando addirittura quasi ci si vergognava a possedere il cellulare Perché ti squillava sta cosa imbarazzante In mezzo agli altri Viaggiavi con questa specie di hard disk in tasca Bene, mi ricordo che aspettavo di ricevere dei messaggi Cioè quando si è cominciato a diffondere questo cellulare Aspettavo, dicevo chissà se qualcuno oggi mi manderà un sms Stavo lì e guardavo il telefono Ecco, oggi il problema è il contrario Cioè appena distogliamo lo sguardo dallo smartphone Ci accorgiamo che si sono accumulate lì notifiche Bollini rossi sulle icone Messaggi Persone che ci cercano News Insomma, i tentativi di attirare la nostra attenzione Dalle tecnologie digitali Soprattutto quando sono pervasive Come lo smartphone che ce lo portiamo a letto Sono davvero tantissimi Ma vi posso dire una cosa personalmente Che se impariamo a controllare questa paura A eliminarla Possiamo arrivare addirittura al suo contrario Alla giomo Alla joy of missing out C'è un sottile piacere Che non è solo un piacere psicologico Ma anche dei risvolti business E cercheremo di capire quali possono essere Come far ad arrivare a questa giomo Nell'ignorare Nel perdere le cose Nel perdertene Ce lo siamo perso per sempre Tutta questa riflessione mi nasce Almeno mi ha colpito Il discorso che faceva Luca stamattina Nel podcast Intanto ragazzi tranquilli È la malsetta e il martello pneumatico Ce l'abbiamo sempre Non ce lo facciamo mancare Quindi sicuramente ci farà compagnia Anche lui nel nostro podcast Non vi preoccupate È tutto regolare Vi dicevo l'idea La discussione è nata Nel digital mastermind Qualche giorno fa Quando alcuni partecipanti Hanno detto Ragazzi ma riusciamo a trovare Un modo Per taggare i messaggi Per non perderci le cose Che vengono dette E allora potremmo Mettere una frase O taggare La persona alla quale Diretta il messaggio Oppure mettere un hashtag Sull'argomento E la cosa mi ha colpito Perché in realtà Una delle cose piacevoli Che trovo Una delle cose più belle Le scoperte Che io stesso ho fatto All'interno del digital mastermind In particolare Nello strumento di punta Che è questa voice chat Che connette tutte le persone Che partecipano al mastermind In tempo reale 24 ore su 24 È il flusso Di messaggi che si crea E il fatto che Se tu ci sei Li puoi seguire Se non ci sei Cioè se per una giornata Sei fuori Per lavoro Sei impegnato Non c'è modo di recuperarli Perché sono talmente tanti Questi messaggi Che puoi solo entrare Nel momento È un po' la stessa cosa Che succede Con gli amici Io tra qualche ora Andrò a prendere una birra Con un amico Che è tornato da Cuba Mi vuole chiedere Dei suggerimenti Sugli strumenti Da utilizzare Per tenere la propria casa Sotto controllo Telecamere wifi Sistemi di sicurezza Mi ha portato Un bel sigaro cubano Ho detto Beh allora Becchiamoci Ci beviamo una birra Insieme Ci beviamo il sigaro No non ce lo beviamo Ci fumiamo il sigaro E ci raccontiamo Come utilizzare Queste tecnologie Bene Se io ci vado Posso fare questa cosa Se non ci vado Me la perdo Questa Lui stesso Ascolterà i consigli Che gli darò Ma non è che girerà Un video Per cui non è che Queste informazioni Queste informazioni Andranno perse Se magari si porta Un amico Il suo amico Potrà ascoltarle Se il suo amico Non se la porta Queste informazioni Le ascolterà Lui in quel momento E basta Si perderanno Allora il digital Ci ha abituato Alla mentalità Dell'on demand C'ho sempre Tutto disponibile Archiviato Su internet Trovo tutto Nel mio hard disk Trovo tutto E poi alla fine Trovo tutto Avere tutto È come non avere niente Perché è come non avere niente Perché da una parte La nostra psicologia Quel bisogno Sempre di avere Che ci deriva Da quando eravamo Cacciatori Raccoglitori Avere il granaio pieno Avere la riserva Di cose da consumare Che siano informazioni O che sia cibo È poca la differenza L'importante Può essere anche cibo Per la mente Ma l'importante Sappiamo che ce l'abbiamo Abbiamo l'accesso A quella cosa Ecco Questo bisogno Di avere l'accesso Ce l'abbiamo Ma al tempo stesso Manchiamo di autenticità Manchiamo di quel piacere Dell'effimero Della cosa Che succede in quel momento E non succederà mai più È un pochino Lo stesso Che potremmo dire Davanti a un tramonto La mia mamma Fin da piccolino Mi mostrava i tramonti E diceva Guardalo Perché non ci sarà mai Un tramonto uguale a questo Ed effettivamente È così Ogni giorno C'è un tramonto diverso E la vita è ogni giorno Diversa Allora io Da una parte Vedo che è una cosa fantastica Io stesso Mi impegno Per rendere Disponibile On demand Tutti i contenuti Che pubblico Questo podcast Che tu stai ascoltando ora Lo puoi ascoltare Riascoltare Condividere Ritrovare tra un anno Io stesso amo La trasformazione In formati diversi Delle informazioni La loro catalogazione L'accesso In maniera semplice E immediata A questi contenuti Dall'altra parte Apprezzo Anche il valore Di quello che passa Di questo flusso Nel quale siamo inseriti E credo che sia importante Non perdere d'occhio Che di base C'è una cosa Che ti potresti perdere Se sei distratto Da altro Che è la tua vita La tua vita personale La tua vita professionale Le cose che succedono Qui ora Le persone che incontri Le persone alle quali Regali il tuo tempo Regali la tua attenzione Regali il tuo sguardo Lo noto anche nei giovani È molto difficile Almeno per i ragazzi Ai quali faccio lezione Che hanno Tra i 20 e i 30 anni È molto difficile Trovare la concentrazione Su qualcosa Mantenere vivo L'interesse Per quello che gli stai spiegando Non farsi interrompere Ecco Non farsi interrompere Da altre notifiche Altre informazioni Altre attività Bene ragazzi Più diventa difficile Più ci sono delle opportunità Per noi Se vogliamo utilizzare Il digitale Per fare business Che cosa voglio dire? Voglio dire che Essendo tutti immersi In un flusso Anzi in vari flussi Di informazioni Di sollecitazioni Di emozioni Di storie Di contenuti È importante Mantenere la mano Sul timone Mantenere il controllo Mi ricordo Una volta Stavo su una barca Sul rio negro Nel Diciamo Nei pressi Più o meno Di Manaus Foresta amazzonica Sul rio negro In un punto bellissimo Dove c'è la confluenza Del rio negro Del rio negro E del rio amazzonas Diciamo Del rio delle amazzoni E la cosa bella È che il rio negro Si chiama rio negro Perché il tannino Contenuto nelle foglie Della vegetazione Si scioglie Nell'acqua Quando il fiume Ricopre parte Della vegetazione E il fiume diventa nero Tipo coca cola Ecco Quando questi fiumi Confluiscono Il rio delle amazzoni Invece ha un colore Molto più Beige Beige verde Ecco Quindi Li vedi confluire Prima di mischiarsi In un unico fiume Per un momento Sono due fiumi Che scorrono paralleli Queste due correnti Che scorrono parallele In quel punto È difficilissimo Navigare Proprio perché Hai delle correnti Che non sono univoche Hai due correnti Che si scontrano tra loro Due acque Che si mischiano Tra loro Ecco Noi abbiamo costantemente L'acqua della nostra vita reale E l'acqua della nostra vita digitale E allora è fondamentale Mantenere il controllo Dobbiamo mantenere La mano salda Sul timone Perché Mantenere il controllo Su questo Scontro di flussi Ci dà la possibilità Di avere un vantaggio Sui nostri Sulle altre persone Che fanno business Come noi Che magari Non hanno lo stesso controllo Perché non hanno La stessa Consapevolezza Ma come fare Ad avere questo controllo Come fare Ad arrivare A questa Giomo Joy of missing out Joya di perdersi qualcosa Dire me lo so perso È pace So contento Meglio così Se me lo so perso Vuol dire che avevo La mia attenzione Puntata Su qualcosa Di più importante Prima di tutto Bisogna Secondo me Studiare Acquisire Consapevolezza Rendersi conto Dell'effetto Che i device Hanno su di noi Dice sempre Il mio amico Franco Solerio Del podcast Digitalia Che Le migliori menti Della terra Sono state Recrutate Per Progettare I dispositivi Digitali Che abbiamo intorno Soprattutto Gli smartphone Per attirare Continuamente La nostra attenzione Vi siete mai Chiesti L'effetto Della vibrazione No Vi ricordate Quando hanno inventato La vibrazione Prima i telefoni Mica ci avevano La vibrazione A un certo punto Hanno inserito Questa feature La vibrazione Che era molto comoda Perché tu potevi Levar la suoneria E renderti Lo stesso conto Che ti stava Cercando qualcuno O addirittura Io stesso Mi ricordo Di aver sostenuto Molte volte Che la vibrazione Era comoda Perché Trasforma in un suono Diverso La suoneria Non è solamente Diciamo Un suono Di tipo Melodico Ma è un suono Di tipo Ritmico Perché tu senti Le vibrazioni Sugli oggetti Per cui In questo momento Se il mio smartphone Vibrasse Riuscirei ad avvertirlo Anche se voi Non sentiste Il suono Della suoneria Non sentireste Il suono Della suoneria Perché io lo sento Vibrare sul tavolo Bene Questa figata Della feature Della vibrazione Ha in realtà Un effetto Fisico Su di noi Lo sanno bene Quelli che tra noi Giocano ai videogiochi Sanno che Quando i controller Hanno la vibrazione In qualche modo Lavorano su un piano Della percezione Personale Del riscontro Che abbiamo Giocando Diverso Quindi è come se Inserissi Attraverso la vibrazione Uno spinotto Nel tuo corpo Che è in grado Di darti Le piccole scosse elettriche Ecco Nessuno di noi Vorrebbe le scosse elettriche Per accorgerci Che ci sta chiamando qualcuno Che ci è arrivata Una notifica Ma in fondo Quello che fa la vibrazione È la stessa cosa Porta sul piano fisico La capacità Di distrarci Cosa fanno i bambini Che chiamano la mamma E si mettono la mamma 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 Cominciano a tirare La gonnella A toccare Con la mano Ecco È come se Il cellulare Che ci chiama Lo smartphone La notifica di turno Invece di chiamarci Solo col suono Di chiamarci Ehi Giulio Giulio Avesse la possibilità Di toccarci E trasmetterci Una vibrazione Che effetto ha Questa vibrazione Sulla nostra attenzione Ma qua stiamo parlando Di una sola feature No Vi sto facendo questo esempio Per farvi capire Quali sono i punti In cui possiamo studiare Gli effetti Delle tecnologie Su di noi Che effetto ha Sulla nostra attenzione Riesce sempre A distoglierci Riusciamo a Vedere che ci sta arrivando Una notifica O sapere che ci è arrivata Una notifica E non guardare il telefono Quante volte al giorno Utilizziamo il telefono Guardiamo il telefono Anche in assenza Di una notifica Per controllare Se ci stiamo perdendo qualcosa O ancora di più Quante volte Alla guida Io sono super sensibile Su questo discorso Del telefono alla guida Perché veramente Muoiono tantissime persone Per una stupidaggine Quante volte Durante la guida Del nostro veicolo Controlliamo Se qualcuno Ci ha contattato Sicuramente Una volta Ogni semaforo Ho fatto un esperimento L'altro giorno Con mio padre Gli ho detto Papà Proviamo a mettere Il tuo telefono Nel cruscotto E vediamo Se riesce A non toccarlo Mai Non sto parlando Dell'utilizzarlo Ma neanche toccarlo Neanche buttare L'occhio su di lui Per tutto il tempo Del viaggio Un viaggio Di un quarto d'ora Bene Non ci riusciva Ci siamo scoperti A ridere Perché aveva bisogno Di aprire sto cruscotto E di guardare Il telefono Arrivato al semaforo Ok Allora Questi sono solo Alcuni degli effetti Ma questi effetti Ci distolgono Ci defocalizzano E quando Questi effetti Non sono più La stupidaggine La notifica del cellulare Ma diventano La notifica Da parte Del nostro Wordpress Il messaggio Da parte Della piattaforma Il contenuto Che magari Viene dal blog Che seguiamo Super interessante Per noi Che ci dice Che è uscita Una nuova feature Che può essere Una potenzialità Rischia Di distrarci Dal nostro Business Ma io Dieci volte al giorno La devo fare Questa lotta Apro la mia email E c'è Youtube Che mi annuncia Che c'è Quella nuova feature Quell'altra piattaforma Che mi dice Che ho una possibilità In più Quell'altro Che mi avvisa Che un'altra persona Ha avuto Grandissimo successo E vuole condividere Con me Le sue Best practice Quindi Tutte queste informazioni Che noi Immettiamo Nella nostra dieta Possono Mettere in pericolo La nostra strategia digitale Possono spingerci A cambiare idea Allora Quello che vi consiglio È di avere Percezione Dell'effetto Che hanno su di noi Questi device E queste comunicazioni Cosa succede? Arriva un'email E ti fa cambiare idea? Arriva un'email E la forwardi Magari al collega O al dipendente O all'ufficio marketing Perché Dobbiamo assolutamente Provare questa nuova feature? Oppure Quando ti arrivano Le informazioni Riesci a avere La distanza giusta E emotiva E a metterle da parte Per valutarne In maniera ponderata L'adozione O meno Secondo consiglio Diamoci del tempo libero E abbiamo cura Del nostro tempo libero Se vado a correre Sto a correre Lasciami stare Smartphone Lasciatemi stare Notifiche Lasciatemi stare Telefonate Perché Il tempo della corsa Il tempo degli spostamenti Il tempo del relax Se stai leggendo un libro Se stai facendo colazione Ecco Utilizza quel tempo Come camera Di decompressione mentale Perché Proprio in quei momenti Là Il tuo cervello Abbia la possibilità L'agilità Per muoversi Non stare come Quando stai dentro All'autobus Nell'ora di punto Tutto schiacciato Dagli altri No Il tuo cervello Può dilatare I pensieri Dilatarli E magari Svolgerli Là ti accorgerai Che un'idea Che avevi avuto Non è un'idea buona Un'idea Che non avevi avuto La possibilità Di sviluppare È un'idea positiva Io Io e Sara Veltri Per esempio Ci siamo dati Dei tempi Per incontrarci E parlare In maniera creativa Mi ricordo In particolare Qualche tempo fa Dedicavamo ancora più tempo Dovremmo forse Farlo di più A Avere degli spazi liberi Di chiacchiera Cioè non avere un'agenda Un'ordine del giorno Per poter sviluppare meglio Le idee Per rendere il nostro podcast Migliore E poi Ultimo consiglio I rapporti umani I rapporti umani Sono fantastici Perché sono Un aiuto grandissimo Molto efficace Per riportarci Nell'ic et nunc Nel qui e adesso I rapporti umani Hanno questa capacità Perché non c'è niente Di più attrattivo Per noi Che scoprire Nella relazione Un'altra persona Ed è per questo Che io stesso Trovo geniale Amo tantissimo Partecipare E organizzare Eventi di smart networking Eventi dove Le persone Che hanno in comune L'utilizzo del digitale Nella loro professione Nel loro business Si incontrano Si presentano Mettono a confronto Le proprie storie Possono creare Alleanze Collaborazioni Possono trovare Nuove occasioni Di business In particolare Ti voglio invitare Al prossimo Evento di smart networking Che ci sarà A Roma Martedì pomeriggio Subito dopo L'evento Di Paolo Pugni L'autore del podcast Vendere valore Dedicato appunto Alla metodologia Vendere valore Per la vendita Subito dopo In zona Viale Mazzini Faremo questo evento Di smart networking Ti metto Tutte le informazioni Nelle note dell'episodio E ti invito Veramente Sperando Di poterti incontrare Personalmente E di prendere Il controllo Del nostro tempo Di sottrarci Alle distrazioni Alle notifiche Avere un tempo Di incontro Tra persone Di decompressione Delle idee Di controllo Rispetto alle Mille sollecitazioni Che ci provengono Da queste tecnologie digitali E diciamo Perché no Anche un tempo Di joy Of missing out Siamo arrivati Alla fine Del nostro podcast Ma non c'è fine Se non abbiamo Ringraziato Prima coloro Che consentono Al nostro podcast Di crescere Sempre di più Chi sono I finanziatori Del podcast I produttori Coloro che Tra voi ascoltatori Hanno scelto Di diventare Protagonisti Del podcast Poter dire Lo faccio anch'io Il podcast È mio Sto parlando Di Gianluca Sacone Federico Itzi Denise Calzolari Wpok.it Francesca Traverso Roberto Andreoni Matteo Neroni Franco Nicosia Fabrizio Guidi Marzia Tomasin Paolo Pugni Beatrice Biasuzzi Nicolo Ravanelli Cristian Mangarelli Davide Brenna Enrico Girotti Vittorio Neri Andrea Della Via Chiara Cirinna Che è la nuova produttrice Appena arrivata Grazie mille Chiara Ti do il benvenuto Tra i produttori Di strategia digitale Rocco Ieraci Fabio Marcialis Alessio Casarolli Fulvio Iulita Agata Amato Jacopo Livia Oleopoldo Antonino Cotroneo Paolo Gollo Massimiliano Berto Rosario Rizzo Stefano 2.0 Mariano Lampis Mauro Rizzo Francesco Cucuini Erika Vagliengo Roberto Pagliarini Lorenzo Mari Rodolfo Monacelli Maxaggia Pillolitecnologia.it Marco Paolini Marco Bazzo Daniele Risi E tanti altri produttori Che anche solo Con un dollaro al mese Sostengono il nostro podcast E ne fanno realmente parte Ragazzi grazie È molto importante per noi E se anche tu che ascolti Vuoi diventare produttore Di strategia digitale Youmediaweb.com Slash finanzia E lì trovi tutte le istruzioni Per diventare anche tu produttore E se non sei pronto A diventare produttore Lascia almeno Una recensione Sul nostro podcast StrategiaDigitale.info Ti mostra anche come farlo Attraverso un video tutorial Creato Da uno dei nostri produttori E allora ragazzi Siamo arrivati alla fine Grazie mille a Sara Veltri Quotrice del programma Al nostro fonico Costanza Mineo E a Radiospeaker.it Curatore del nostro sound design Ragazzi grazie mille E ci vediamo online Strategia Digitale Idee, novità e consigli Per imprenditori e professionisti Appassionati di web marketing E business online E business online A cura di Giulio Gaudiano Ciao 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 Grazie a tutti